Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. La settimana inizia con un lieve gradevole calo termico ad opera di correnti meno calde in ingresso da Ponente. Lunedì 24. Cielo poco parzialmente nuvoloso su tirreniche e rispettive aree interne dove nel corso della giornata non ci sentiamo di escludere del tutto qualche locale pioggia. Sereno invece sulle Ioniche, dove continuerà a fare molto caldo. Venti tendenti a disporsi da Ponente, in genere deboli o a tratti moderati. In conseguenza di ciò il martirreno diverrà mosso, poco mosso lo Ionio, localmente mosso dalla sera. Temperature in lieve calo sul versante occidentale. Per martedì 25 agosto notiamo dei fenomeni a macchia di leopardo, alternata da ampie schiarite. Saranno infatti possibili delle precipitazioni su medio basotirreno e pollino, più probabile al pomeriggio sera. Caldo in temporanea attenuazione dappertutto. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.